mamma problema da aspettare alla fine vabbè dica alla fine che sono scelto questi giochi esclusivi ma da oggi che io non so questo credo secondo voi se tu vieni in un negozio e ci vuole prenotare la playstation che cosa ti dicono? secondo me scoppiano al reader no no te la fanno prenotare invece tipo ora per novembre non ti danno una data ti danno una data ipotetica tipo questo dicembre questo dicembre questo arriva prima questo arrivarò e cosa sono lui? ho le prenoti o se può guardare rischi e cerchi di prenderlo in qualche negozio spero io lo trovo io avevo i paesi con c'è un'euro io avevo i paesi con c'è un'euro che danno io, io voglio un euro e cioè la posso prenderlo? no ancora non abbiamo nessuna direttiva vabbè passò domani no 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 spesso non la prendiamo e poi io gli dinavamo da te mi sento beh c'è stata una disorganizzazione imbarazzante no infatti c'è di somma infatti quando quando fu poi mi sono andato a prenderli qua qua c'è ho lasciato i soldi al negozio no no riprendete riprendete tanto avevo preso qua c'è il dolgo leggero perchè stai cinque come c'è quella che mi conosci mi fa già ti è arrivato ci si sembrava per voi quando ci sono arrivate 5 già ho ordinato ci si è oppure l'ho ordinato da voi punizionale punizioni ragazzo intendo si può accattare poi c'è mi fa mi fa come che non l'ho ordinato da notte no io sono venuto da voi mi sono venuto da voi adesso sono con il tuo collega che non forse non l'ordinavate la manca l'elicottero ma quella è una cosa strana comunque che non l'ordino invece da l'ordino tra di loro sicuro da ancora qualche cliente che dice no ma non vuoi farlo online no non è vero perché non lo faccio mai ma lo fate boh perché allora io ci ho provato a farlo online non ne mettono quasi male ma probabilmente a farlo farlo direttente da loro fisicamente solo è la scelta più corretta da farlo è la cena sacca io ce l'ho già io ce l'ho già no io ce l'ho no io ce l'ho no io ce l'ho ma ce l'ho si sì cerchini 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 abbiamo l'opo che compro noi senza d'ora no perchè ho ammesso il coso che mi dà il silenzatore di fiamma mi dà una precisione migliore no 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 ecco dietro no ma che c'è un'altra no che accanto a terra l'ho buttato l'ho uccida con la santa ex cos'è un bambino a in quella santa ex sotto di un occhio alla minaccia pieno negativo e positivo non positivo se 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 non che no non è solo io controllo qua e infatti già l'hai sentito diamo c'è la gente comunque ragazzi attenti noi siamo più forti chi sa perché in questa casa non c'è mai niente è morto si che la sua piaccia appoggio non ne ho sentito il suo mondo non è un po' di me mi chiamava sotterraneo sopra non è il suo libero anzi per ora mi sapevo che fa da direte su Twitch ma mi sapevo che così ci faccio a capire ogni tanto la che sepevo ma vada facciamo una copertura di incrocio tu dove le prontate io controllo qua qualcuno controlla porta con io mi 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 èiances ai sei portata o per il suo nome di quale volete termini io ho c4 su gioco c'è una maschera io ho ragazzi amici il mio scala scala no da dietro ci ma raga è venuta forse è stata le scale le scale sono forse è stata la finestra questo noto è libero la finestra o questa è lì è lì è morto grazie ok penso dopo che un po' circa altri ci sono mi sembra con lì sono nemico lì qua? che cazzo? minchia finessa finessa eh minchia giusto giusto ma va alla gara e vuoi minchia c'è muoio che c'è muoio si può restare ma dai ma dai ti ho sparato tre ore cì no no è buonit è buonit è buonit fio di puttana minchia ma andò alla gara è pure a me minchia ma si è blocco tutto di campo no sto tornando raga e tutto non chiamiamo bloccare porca miseria quale fine sera entrati da questa acqua da dove si entrano pure noi l'ho visto se stava per entrare ci stavo sparando e mi si blocco tutto quasi secondo non non chiamiamo chiamiamo non devono poter ma non non ma ma non 2 metri a 1 con 3 sette a destra a dire mi si sta bloccando come è il suo no no io proporrei capo qua esterno che c'è c'è gente sopra siccome la chiusura è lì sicuramente si metteranno piazzati io invece direi sotterranei Luca venite con me mamma 14 a 5 si sono lì no libero minchia è un bombardamento di precisione prendi prende il tutto mamma io provo pronto a spararlo quando tu vedi qualcuno mamma tu li sminchio e lo lancio subito appena vedo il primo che passa ok? ok io sono pronto al bombardamento Ale tu coprici la spalla non sto coprendo io alla spalla però se si mette alla guada anzi ah le coprivo tutto io sto coprendo la porta dietro ok ok spero la porta è coperta dal gas copro la scaletta Sì c'è da lei riquando 16500 euro nemici no a terra 1 arretrata arretrata ragazzi che tanto il gas viene verso di noi Luca vieni qua dentro che non è riporilo Sì, sto buttando una termina di valutazione Sulla terra Retrata Perfetto, ucciso Ok Siamo 3 team, noi siamo 3, 2, 2, 3, 3, 1 Senza non andare niente È un anno fantasma Veloce, cassa e veloce Veloce, cassa e veloce Veloce, cassa e veloce Sono qua Sono qua Raga, da dietro mi hanno fatto Sono nel tetto, sto buttando Però dov'è Ce la fate Ce la fate Ce la fate le salmi Vai, vai Uno che se ne va, uno che se ne va Qua è Qua, 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 qua È ragazzo, è un po' tosera Dove sono sei, come sei, come sei Che ha salvataggio Valieri No, aspetta, Simone, facendo un attimo Ah, mi chiamo Siamo nel finale Pampaglia, esco, io esco Perfetto, la cavia È sotto, è sotto, è sotto Buono Grave Grave Buono Ma l'è, finale con la ciliegina Io penso che stasera forse Siamo già trovando Io sono trovato disponibile Veramente è bene, veramente è bene l'abbiamo giocato stasera Inghiaio ho fatto Pure già poi città, ma per capire l'osso, secondo post Niente riega Ma l'uccisione Ah, ci ce l'hai visto la Swiss, sicuramente il mirino come bello Che lo regoli con i tassi direzionali Sì, sì, l'ho visto Che spettacolare Sì, ma poi è lento come cosa un po' Sì, appunto qua, questo difetto Beh, lento da regolore Perché non è buono Perché ho tempo che ti poti cercare la distanza Già per di sé troppo di niente Però è una cosa in più che puoi fare, quello sì Conca abbiamo giocato bene, compa Bello, bello Bello, bello Bello, bello Bello, bello Bello, bello Bello, bello Grazie a tutti